Mamma mia, finale incredibile ragazzi! Cosa sto vedendo? Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati, sono il Franz, questa è NBA Revival Zone Come al solito siamo qui alle prese con la reaction, blind reaction Non so il risultato, non so il box score, non so nulla Questa notte è stata scelta Lakers-Celtics come partita su cui fare la reaction Prima di iniziare però vi invito a iscrivervi al canale, mettere un bel like al video Se vi piace questo format e supportarmi Se siete pronti ragazzi, perché io lo sono, partiamo! Ci siamo ragazzi, ecco qua iniziamo, schiacciamo play e direi che la reaction può iniziare Ci sono tutti, ci sono veramente tutti, anche la pubblicità comunque ci sono tutti Campbell Walker, Smart, Tatum Brown e Tice per i Celtics, per i Lakers Schroeder, Lebron Davis che erano in dubbio, KCP e Marc Gasol Comincia forte Boston Con Marcus Smart L'importanza, eccolo grande, Daniel Tice L'importanza di questo Tice all'interno dei Celtics è tutta lì da vedere Grande posizionamento difensivo e poi dall'altra parte ragazzi non ti penalizza più come un tempo E fatti, tripla di Tice Comunque ragazzi, pensavo al fatto che ci sono due tedeschi in campo Il che mi fa pensare che i prossimi europei, quantomeno La Germania potrebbe anche dire la sua, non dico che sia tra le favorite per carità Però insomma, già con un duo piccolo lungo di questo tipo può dar molto molto fastidio Gran canesto, tanto di Smart, mentre mi soffoco Ma è il bello della diretta Movimentino, movimentino di Anthony Davis E altra tripla di Tice Penso sia già a otto punti, la schiacciata è due triple Mentre dall'altra parte, Jalen Brown lasciato sul posto da Schroeder Che ha un'importanza capitale per questi Lakers Mentre Robert Williams, un altro che ha minuti importanti in questo periodo per i Celtics E che dà un'altra dimensione In questo caso è in campo contemporaneamente a Daniel Tice Che quindi viene usato da numero 4 E tripla di Kuzma Più 4 Lakers in questo momento Recupero difensivo, ma tuffi e contro tuffi E Robert Williams Serve Jalen Brown per due facili Abbiamo una partita, signori E' pur sempre Lakers Celtics Cos'è? Un autocanestro? Ho visto bene Autocanestro di Robert Williams E' pur sempre Lakers Celtics Mentre il 36enne più giovane di tutti Va a depositare a canestro due punti Lakers Celtics, dicevo, sarebbe veramente bello Rivedere una finale NBA tra Lakers Celtics Non credo che possa accadere nell'immediato futuro Ma secondo me tra un paio d'anni potremmo nuovamente rivedere la rivalry La rivalità della NBA per eccellenza alle Finals Tatum intanto spazza via Arrell Per due facili Lebron Arrell flotterino dal centro dell'area E Arrell è sempre nel posto giusto Al momento giusto Qua Lebron Legger raddoppio Kuzma si fa trovare pronto Si mette in visione Altro bel canestro Altra palla E' bellissimo Scarico di Orton Tucker Per Arrell Altro scarico di Orton Tucker Per Arrell Mamma mia che letture Orton Tucker L'impressione è che fino a questo punto Volutamente i Lakers non l'abbiano fatto giocare troppo Nella speranza forse di non attrarre troppi investitori Ecco Mettiamola così Mentre Arrell anche col giamperino In faccia a Ogeley Però Bravo Arrell Jalen Brown Raschia nella spazzatura Comunque è quasi più 10 Adesso è più 6 Los Angeles Lakers Speriamo comunque di avere una partita ragazzi Perché Il sondaggio è stato plebiscitario Qua step back da 3 punti Di Jason Tatum Gioco spalla canestro di Davis Che si gira sul perno sinistro E mette la piuma A canestro Ancora Tatum Sfrutta il blocco di Robert Williams Anche qui flotterino Da dentro l'area Robert Williams Che sta bloccando alla grande Qua spazio per Marcus Smart E i Celtics Tornano a meno 1 Ora meno 3 Ma Pareggio Di Jalen Brown Pareggio 47 pari Alla fine del primo tempo Anche se qua Nuovamente Giro sul perno Di questo Freak Della natura E Lebron Che va Al depositare Land 1 Alla fine Del primo tempo Più 3 Lakers Ma parte forte Jalen Brown All'inizio del terzo periodo Più 1 Lakers E attenzione Jalen Brown Senza pensarci Canestro del sorpasso 54-52 Per i Celtics Ragazzi I Lakers Vengono da due sconfitte consecutive Una terza Sarebbe veramente un segnale Non dico preoccupante Però insomma Da tenere in considerazione Dico Solitamente Lebron James Se perde due partite di fila Alla terza Non la lascia passare Per cui Vediamo se poi nel quarto periodo Prenderà in mano la squadra Ovviamente se la partita Sarà ancora in equilibrio Qui ci sono sorpassi E contro sorpassi Molto bene ragazzi Molto bene per ora Qui Smart contro Gasol Bella difesa di Gasol Ma c'è lo scarico Per Jalen Brown Qui ha un po' dormito Anthony Davis Che si è fatto passare davanti Da Jalen Brown Ma dall'altra parte Ma che razza di sensibilità Ci vuole Per fare un canestro così 60 pari Lebron step back Da tre In faccia Tice Pazzesco canestro Di Lebron Ormai Spot up shooter Tiri dal palleggio E Tice Schiaccia in faccia A Anthony Davis O meglio in testa Abbiamo una signora partita Ragazzi A metà del terzo periodo Siamo in parità Ancora Sensibilità nei polpastrelli Di Anthony Davis Tice 14 punti È un fattore Flutter Di Jalen Brown Intanto Per il pareggio Furto di Jeff Teague Perché ci sarebbe anche Jeff Teague Che insomma Un minimo di esperienza Dovrebbe anche averla Ancora Tornano sotto E anzi Sorpassano Con Orton Tucker Più uno Lakers Siamo nel quarto periodo Jeff Teague Lascia sul posto Lebron James L'ho detto ragazzi Non avrei mai pensato Potesse succedere Vediamo Grandissima lettura Di Alex Caruso Il GOAT Si prende Il suo trono Mentre la difesa Lakers Qui dorme Un pochettino E Anthony Davis Prende una testata Di Jalen Brown Sul costato Ma è ancora in campo Quindi Nessun problema Per Debrow Qua Ancora Tatum Per il più due Partita splendida Ragazzi In equilibrio Speriamo che possa durare Fino alla fine Qui Anthony Davis Perde un attimo La maniglia Ma di nuovo Non tocca nemmeno Il ferro La palla va dentro Proprio In maniera Netta pulita Qua Spot up shooter Il vostro Tiratore preferito Lebron James Che a 5 minuti Dalla fine Sembra voler Prendere in mano La partita Si Altra tripla Del re Per il più 6 Lakers A 4 minuti Dalla fine Vediamo se sarà La spallata Decisiva Qui al resto Di Jalen Brown Palla Immaginifica Di Jason Tatum E poi Lebron Che Sfrutta Il fatto Che un cecchino Abbia ammazzato Jalen Brown Qua ancora Brown Ancora Tatum Che ha messo su Un fisico Incredibile Per resistere A questo tipo Di contatti Molto più robusto Rispetto ai primi anni Di NBA Più 4 Più 4 Lakers Qua un tedesco Sfrutta L'errore Dell'altro tedesco And one Di Schroeder E ora Lakers Sul più 5 Un minuto Dalla fine Non dico che è chiusa Perché qua Tatum Fa vedere Che è clutch Più 3 Boston E possesso E possesso Boston Ancora Tatum Va per 2 Veloci Più 1 Lakers 32 secondi Dalla fine Vediamo che succede Perché Davis in post Potrebbe chiuderla Potrebbe chiuderla Grandissima Grandissima difesa Di Kemba Walker Poi Caruso Che lettura Mamma mia Ragazzi Cosa sto vedendo Kemba Sbaglia Poi Tais Il tap in Incredibile Incredibile Finale Al Boston Garden Incredibile Finale Al Boston Garden Che cosa ho visto I Lakers Se la svangano In questo modo Più 1 Alla fine Ma che rischi Che rischi Per i Los Angeles Lakers Finale Pazzesco Al Boston Garden Partita Splendida Speriamo che possa Tornare alle Finals Ragazzi Perché Veramente Partita Stupenda Punteggi Bassi Difese Forti Ci sta che sia La rivalry Lakers Celtics Ragazzi Ma Veramente Dopo il Martin Luther King Day Abbiamo visto Delle partite Molto Molto Più Belle Molto Più Combattute Andiamo a Vedere il box score 27-14 Di Davis Ma Plus Minus Decisamente Negativo Mentre Decisamente Positivo Il Plus Minus Di Lebron James 21-77 Alex Alex Caruso Alex Caruso Che ha fatto Un miracolo Su Quell'ultimo Possesso Andando a Sporcare Un contropiede Probabilmente Un canestro Facile Del sorpasso Schroeder Concreto Anche se Tira malino Kuzma Ottimo Dalla panchina 11-6 Rimbalzi Arrel 8-10 Man of the match Credo Per l'impatto Che ha avuto Anche con Tre stoppate Andiamo a Vedere il box score Dei Celtics Con Tatum Da 39 Rimbalzi E 12-18 Dal campo E Brown 28 Con 13-19 Questi due Ragazzi Stanno Crescendo In una maniera Vertiginosa Kemba Walker Malissimo 1-12 L'ho visto Tanto in difficoltà Soprattutto Fisica Contro le difese Attuali Smart Anche male Thais Concreto 14 punti E un plus Minus Positivo Dalla panchina Robert Williams Col 100% Dal campo 10 punti 7 rimbalzi In ogni caso Grande Grande partita Ragazzi Grandissima partita Molto bella L'hanno trasmessa Anche su Sky Quindi me la guarderò Per intero Oggi Che dire Ci è andata Per l'ennesima volta Molto bene E direi che Possiamo Continuare Se volete Con questo format Mettete Un like Iscrivetevi al canale Supportatemi Datemi Eventualmente Anche qualche consiglio Su come gestirlo Questo format Perché è una cosa che Ho iniziato a fare Così all'improvviso Per il resto Ci vediamo alle 14 Oggi Con le pagelle NBA Dal France È tutto Un saluto E un ringraziamento Da me Ciao Ciao